Su un lancio improvviso cerca l'inserimento di Cesarini, Piacenza va a pressare con Sulic, chi ora è costretto a rinviare, dove c'è Parisi che la mette a terra, il pallonetto a superare un compagno, attenzione, entra in aria da destra Parisi, è pronto il cross, eccolo, centrale, non ci arriva nessuno, il primo ad arrivare adesso Gonzi fuori dall'area, inseguito da Piero Bon, molto bene lo salta, ecco il cross, la palla, il tiro è il gol, è il gol, è il gol del Piacenza, è Sulic! Sulic al minuto 37, andiamo in vantaggio, 2 a 1, una bella azione sulla sinistra, un cross, una deviazione e Sulic da due passi, scarica al destro, ha il suo primo gol in campionato, alle spalle di Chiorra, mettiamo la testa avanti al minuto 37, una bella azione sugli esterni, un Piacenza che sta salendo di tono, il cross di Gonzi, la deviazione casuale di Morra che trova al centro dell'area libero Sulic, anche qui c'è una componente di fortuna, ma ragazzi è un anno che non ci gira ansia, è Cesarini che la mette e poi c'è il gol di Sulic nell'area piccola, senza problemi, 2 a 1, mettiamo la testa avanti! Sì! Sì!